Il centro arredo Marotta abbatte tutti i prezzi e oltre al design, alla qualità e alla garanzia di prodotti esclusivamente italiani, vi regala su tutti i modelli di cucina e nube esplosa il piano cultura 5 fuoti, il forno ventilato e il miscelatore. Il centro arredo Marotta è il miglior modo di arredare e vi aspetta in via nazionale a Polla nei pressi dello svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria. Telefono 0975 39 14 06 www.centroarredo-marotta.it